Ci troviamo a Porelli di Bagnara Calabra, Carnevale Porelreso, undicesima edizione, organizzato da un gruppo di giovani, insomma torna dopo qualche anno di fermo il Carnevale qui a Porelli. Sì esattamente, ci siamo fermati per tre anni per dei motivi, dei problemini a livello tecnico all'interno dell'organizzazione, però ora con tutta la buona volontà e tutta la massima collaborazione dei giovani, di tantissimi giovani che abbiamo coinvolto quest'anno, siamo pronti e siamo quasi pronti a mandare l'undicesima edizione del Carnevale Porellese. Il programma è ampio, si parte già dalla mattina, da mezzogiorno con la sfilata dei giganti che ci aprono il Carnevale, poi durante la manifestazione ci sono tantissime altre attrazioni per i bambini, ma anche per i grandi. Già nel pomeriggio abbiamo la sfilata delle mascherine, delle migliori mascherine e gli diamo dei premi ai bambini, poi abbiamo le scuole di danza che abbiamo coinvolto, le scuole qui del paese che le abbiamo coinvolte, che salgono con i loro allievi e a loro volta hanno dei saggi da mettere, diciamo, da esibirsi. Poi faremo il corteo funebre nel tardo pomeriggio, dopo del corteo funebre inizierà la salsicciata, intorno alle ore 6 e mezzo, 7, dopodiché in serata ci sarà il concerto dei nostri amici dei Poplaria. Insomma, una giornata di sano divertimento, ci saranno le famiglie, ci saranno i giovani, ci saranno la gara delle mascherine, insomma, chi volesse venire qui giorno 3 marzo a Porelli di Bagnara Calabra a partire da mezzogiorno fino alla sera. Fino a tarda serata, sì, come dicevo prima, poi il concerto ovviamente chiuderà, diciamo, la nostra manifestazione, che poi si concluderà con la classica tradizionale a ballato ruscecco, gli faremo il nostro falò a carnevale, poi ci sarà l'estrazione dei premi pure, abbiamo messo dei premi per coloro i quali acquisteranno i biglietti, perché ricordiamo che ci sono anche i biglietti in vendita per la salsicciata, che c'è il panino con la bevanda e quindi ci sono dei premi da dare pure. Bene, possiamo dire qui a Porelli, quartiere che negli ultimi tempi si è distinto nell'organizzare numerose manifestazioni. Sì, 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 entriamo anche noi dopo, ti ripeto, dopo tre anni e quindi ci inseriamo anche col Carnevale Porellese, perché ricordiamo a tutti quanti che da circa due anni, che qui a Porelli abbiamo varie manifestazioni, tra cui il Natale nel Borgo, col presepe vivente, c'è la via Crucis, e quindi insieme a tutte queste manifestazioni ci inseriamo anche noi con il Carnevale e vogliamo fare una bella manifestazione per i giovani soprattutto, ma anche per i grandi, per tutti, diciamo. Bene, appuntamento a domenica 3 marzo. Siete tutti invitati a fare parte di questa bella manifestazione che va avanti da 11 anni, quindi vi raccomandiamo di venire tutti, di essere tutti presenti e speriamo che esca una bella giornata e che ci divertiamo tutti assieme.